Ovviamente l'anno scorso non è andata come volevo, però alla fine siamo adesso qua, sono a Cesena e ho tantissima voglia di fare bene, di fare anche molto meglio di quello che ho fatto a Brescia. Parlo di cifre e spero e faccio tutto per questo e faccio tutto per fare meglio. Adesso è troppo presto per dire tutto, c'è mister qua come mister Boscalia, sono persone molto aperte che aiutano tantissimo in campo, spiegano le cose che è molto importante per il calciatore per imparare e per capire quello che aspetta da giocatore. L'ampia esperienza in Serie B del calciatore polacco, arrivato a titolo definitivo dal Chievo Verona, sarà molto utile nel centrocampo a 5 di Camplone. Fisicamente è pienamente in salute e domenica in amichevole ha già percorso i primi chilometri lungo la fascia destra. Chi dovrà invece imparare i movimenti giusti e soprattutto l'italiano è l'attaccante Lamy Jallov, arrivato anche lui dai Clivensi ma a titolo temporaneo. Per me è molto importante, io vado prestito sulla pane, anche venire qua, se sei una grande squadra, è bene per me. Io ho Giavinio, però tu parli con me, tu giocati come Giavinio, velocità, sì, Giavinio, sì.